Gentili telespettatori, buona giornata. La fiducia in Giorgia Meloni, secondo la ultima supermedia dei sondaggi fatta il 3 dicembre da Bidi Media Sondaggi, la Meloni cresce dello 0,4% e si porta al 41,9%, mentre il partito che sale di più dello 0,3% è Europa più Europa, mentre il partito che scende di più nell'ultima settimana è la Lega con meno 0,3%, abbiamo il centrodestra di governo che scende dello 0,2 al 46%, il centrosinistra che cresce dello 0,3 al 25,5%, il Movimento 5 Stelle al 16,3%, ex TP 6,8%, altri partiti 5,4% in discesa dello 0,3%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video.